In questo anno abbiamo cercato con un lavoro di sinergia con Enel, distribuzione e con OpenFiber di accelerare tutti i cantieri e negli ultimi mesi sono partiti diversi cantieri in questa regione e in questa provincia. Io ho chiesto di dare priorità alle aree interne dove la digitalità e il digital device rappresentano davvero un rischio di esclusione sociale e in modo particolare qui a Serravalle, a Dapecchio, c'erano diversi problemi anche con i cantieri, con le ditte che hanno lavorato in subappalto per gli infratelli OpenFiber, quindi abbiamo proprio acceso un focus cantiere per cantiere finché questi non si realizzassero. E mi fa molto piacere davvero essere qua a Serravalle a dire che il primo comune dove si può allacciare alla banda ultrale che sia proprio Serravalle di Carda. Questo è davvero importante, è un segnale forte della regione Marche e della giunta Aquaroli che ha voluto dare al territorio e cercheremo con attenzione di far partire tutte le connettività in tutti gli altri comuni che mancano, entro un anno saranno tutti collegati. Si aprono degli scenari completamente nuovi perché questa infrastruttura riduce le distanze, apre modalità di lavoro assolutamente efficienti, penso al mondo delle imprese, dei servizi, sanità sociale, turismo, in ogni campo è un'infrastruttura fondamentale. Ora dobbiamo costruire noi un contesto collaborativo tra tutti gli operatori per utilizzare al meglio questa infrastruttura. Ricordo, e mi piace sempre farlo, l'ho fatto anche nel corso della conferenza stampa, che il comune di Apecchio fa parte della strategia nazionale delle aree interne nella regione Marche e dell'area pilota composta da nove comuni. Di questi nove comuni è quello che ha il parametro di perifericità più spiccato, ma ha anche, proprio registra nei documenti valutativi, tutta una serie di potenzialità. Ed in particolare in questo comune la cittadina di Serravalle di Carda è il luogo più significativo. Si parla tanto anche di zone decentrate e le zone decentrate hanno bisogno di servizi come le zone più centrali, quindi anche questi servizi tecnologici sono fondamentali, anche perché qua, tengo sempre a sottolinearlo, ci sono aziende importanti, non sono zone sperdute, senza aziende o senza ricettori. Qui ci sono aziende importanti che hanno bisogno anche di queste forme, diciamo, di tecnologia importanti. Abbiamo realizzato un'infrastruttura in tecnologia FTTH, quindi con la fibra ottica che arriva fino all'abitazione, all'unità immobiliare, e che permette una connettività fino a un giga per secondo. Si tratta di un'infrastruttura che ad oggi è alla base per poter lavorare in smart working, in telelavoro, e la telemedicina, anche streaming, tutto quello che ad oggi serve per poter aprirsi e connettersi con il mondo. Noi abbiamo un piano di 217 comuni, realizzare l'infrastruttura su 217 comuni in tutta la regione Marche. Il piano sta andando avanti in maniera molto spedita, grazie appunto alla collaborazione con gli enti, con la regione Marche, in Fratelli Italia e i vari comuni.